I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno concluso un'articolata operazione finalizzata al riscontro del corretto utilizzo dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito della politica agricola comune per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nella Regione. Tale attività si colloca in un contesto ancora più rilevante in considerazione delle cospicue risorse erogate o in procinto di esserlo per la realizzazione di progettualità afferenti il PNRR e conseguentemente delle necessità di monitorare le connesse iniziative al fine di intercettare tempestivamente illegiti utilizzi degli stessi. All'esito dell'operazione Gioventù Rurale condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria è emerso che due terzi di percettore dei fondi non sono risultati in regola con i requisiti previsti dalla normativa di settore e che di conseguenza oltre un milione di euro dovrà essere restituito all'erario. In particolare i fondi concessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Calabria con la denominazione Pacchetto Giovani avrebbero dovuto agevolare l'inserimento dei giovani nel settore agricolo e migliorare la qualità delle aziende agricole calabresi, contribuendo al loro modernamento. Per accedere al beneficio era necessario possedere taluni requisiti, come ad esempio aver conseguito la qualifica di imprenditore agricolo professionale o quella di coltivatore diretto presso l'ente regionale o territorialmente competente. Al rilascio era necessario inoltre rispettare alcune condizioni, tra le quali la conduzione dell'azienda per almeno cinque anni successivi al ricevimento del finanziamento, le attività svolte attraverso l'acquisizione della documentazione di interesse, l'incrocio con le risultanze delle banche dati e il compimento di mirati sopralluoghi ha tuttavia consentito di scoprire numerose irregolarità. Di fatto il controllo si è focalizzato sui contributi erogati a vantaggio dei beneficiari che si erano avvalsi della possibilità di conseguire le qualifiche di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto sotto condizione, ovvero impegnandosi ad acquisire tali requisiti entro due anni dalla richiesta all'ente competente. I finanzieri hanno così scoperto che molte delle certificazioni di imprenditore agricolo professionale presentate in via provvisoria non sono mai divenute definitive. Così come alcuni dei percettori hanno cessato la partita IVA prima dei cinque anni previsti dalla liquidazione del finanziamento pubblico, complessivamente su 20 soggetti ispezionati nella provincia di Reggio Calabria, 13, sono risultati non in regola e relativi contributi segnalati all'ente regionale per il recupero di competenza ammontano un totale di 1.063.000 euro.